la scuola di sci di cortina con i suoi 130 maestri organizza egregiamente diverse classi secondo l'età e le capacità degli sciatori l'istruttore a mio avviso è assolutamente necessario per chi inizia la pratica dello sci è necessario per evitare false impostazioni, spreco di tempo e naturalmente anche incidenti a se stessi e agli altri grazie a tutti